Buongiorno a tutte e a tutti oggi volevo iniziare un nuovo vlog anche se la giornata non è particolarmente movimentata diciamo così però comunque ci tenevo a farne un altro perché so che vi piacciono e quindi mi andava allora, a parte il fatto che mi sono svegliata tardi, come sempre va bene sono le 12 e mezza e mi sono svegliata circa un'ora e mezza fa ho già fatto colazione e tutto quanto però ci tengo dopo a far vedere le cose che sto usando per fare colazione perché sono una bomba cioè, mi piacciono tantissimo, davvero un sacco io non vado pazza per le tisane sono più da te, però queste sono favolose, quindi dopo ve li devo assolutamente far vedere, anzi se mi scordo è la fine, quindi ricordatemelo in qualche modo adesso mi stavo mettendo un attimo qui al computer perché devo editare alcune copertine per i video poi che cosa devo fare devo sistemare alcune cose che ho scritto nell'agenda e devo vedere se ho fatto qualcosa se non l'ho fatta, insomma devo sistemare un po' un po' di cosette e devo anche sistemare questo pacco che mi è arrivato da L'Oreal che contiene tutte queste cose straordinariamente fighe queste cose ne manca una perché ve l'ho messa nella bustona del giveaway praticamente questa busta che vedete qua questa qui di Kiko Grande è una busta contenente un sacco di cose ma è davvero piena per fare in futuro dei giveaway più di un giveaway e insomma piano piano adesso inizieranno anche ad esserci questi giveaway abbiate soltanto un po' di tempo e un po' di fede soprattutto stavo vedendo praticamente su Netflix ho scoperto che ci sono le Winx era il mio cartone preferito da piccola e quindi sono tipo tre giorni che io continuo a guardare le Winx non perché mi piacciono i cartoni cioè in realtà quando li ho trovate stavo cercando su Netflix un po' di cartoni perché non so se ogni tanto vi viene la voglia di vedere qualche cartone ecco e allora mi ero presa questa voglia e ho visto le Winx e mi sono illuminata d'immenso e allora fatto sta che l'ho iniziata a vedere e perché le sto vedendo non per le storie per le cose che succedono ma semplicemente per il fatto praticamente mando avanti a volte dei pezzi e mi piace tantissimo vedere le Winx e le personcine a parte che cambiano tutte le varie fasi Enchantix e cose strane a vent'anni sono messa così sì molto bene e poi mi piace un sacco quando ci stanno anche gli specialisti che sono i fidanzatini no io li adoro vi giuro alcune scene mi sarei messa a piangere però poi mi sono detta ma ti pare comunque e quindi insomma mi sto vedendo le Winx e per chi non ci credesse questa è la prova cioè io stavo vedendo le Winx anzi sono la quarta stagione aspettate quarta stagione episodio 8 quindi questo è stato un ritrovamento storico perché davvero cioè chi si sarebbe mai aspettato che a 10 anni di differenza da la prima volta in cui sono uscite uno ricominciasse a vederli quindi sono proprio felice e oggi a pranzo prendiamo anche il sushi in realtà non è la prima volta che lo mangio dopo l'operazione se volete sapere perché ogni tanto mi arrivano delle domande ma che operazione hai fatto eccetera eccetera io vi ho detto che non avrei più parlato quindi vi metto nella scheda info i vlog in cui ne parlo così se volete capire meglio la situazione potete capirla e insomma non fare domande qua sotto visto che vi dico operazione quindi appunto non è la prima volta dopo l'operazione che mangio il sushi però è una cosa che è abbastanza intoppante quindi sto trovando dei modi per togliere un po' di riso e quindi mangiarne un pochino di più però vabbè dettagli così mangio un po' più di pesce invece di mangiare il riso che è meglio il pesce che il riso quindi a pranzo adesso appunto li prendiamo poi i miei stanno pulendo tutta casa se sentite rumori strani è per quello cioè non so perché se sono svegliati hanno deciso di rivoluzionare le camere non nel senso in cui credete rifare le camere perché quello visto che me lo chiedete anche in live poi lo faremo verso primavera perché così possiamo aprire le finestre far asciugare le pareti eccetera eccetera mentre adesso stanno soltanto ribaltando casa nel senso stanno pulendo ogni singolo angoletto vabbè così io ho detto fate prima sta camera così posso mettermi a fare le mie cosine poi mi devo fare la doccia ho dei capelli sozzissimi non so per quale motivo vabbè e basta penso di avervi fatto un ben preambolo adesso continuo a vedermi le winks però al posto di vedermele sul telefono le vedo su netflix sul computer perché insomma abbiamo netflix qui sul pc perché non guardarlo ecco andiamo sul mio account yas no vabbè adoro sì l'avevo già vista questa serie qua e eccole le winks allora mi sono appena ricordata che vi avevo detto di ricordarmi vedete ha funzionato il tutto di farvi vedere le cose che uso per la colazione perché appunto vi ho spiegato la situazione operazione eccetera quindi la mattina ormai prendo soltanto una tazza di questa tisana e due biscottini secchi di quelli sottili sottili senza niente cioccolate zuccherini sopra quelli semplici e quindi vi faccio vedere il mio nuovo perché queste sono tutte cose nuove della fit tea il mio nuovo gusto preferito che è questo qua che è quello che infatti ho usato di più che è il fit tea body detox questo è la confezione da 28 giorni super fruit non potete capire quanto è buono questo qua e gli ingredienti sono mela fiori di biscotti scaglie di zenzero fa benissimo lamponi citronella eccetera 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 ci sono davvero tutte queste cosine super fighe e l'altro mio preferito infatti vedete sono quelli aperti è il fit berry che è questo qua che invece ha un po' di cose diverse c'è il tè verde c'è sempre lo zenzero citronella scaglie di barbabietola mertilli lamponi more e tutti insomma i frutti e sono deliziosi cioè anche solo l'odore è buonissimo l'infuso lì l'infuso li metto l'infusione in questa che è la nuova il nuovo termos e la nuova borraccia per l'infusi vedete qui c'è la gabbietta sempre della fit tea però questa è vedete con il tappo rose gold quindi c'è una sciccheria proprio e semplicemente cosa faccio metto all'interno l'acqua calda e poi qui dentro ci metto un misurino di questo qua che voglio prendere c'è anche questo qua che però è un tè vedete si chiama love tea e quindi li mettete qua poi quando è infuso tutto bene togliete questa e lo bevete direttamente da qua oppure c'è questa che è la nuova tazzina che si chiama to go cap molto american style con questa frase che secondo me è bellissima because tea makes everything better cioè è super figo poi guardate che è tutto rosa è una figata e anche questa è una delle nuove infusiere boh questa è la versione un po' più piccola sempre rosa e si può portare in giro ve la faccio vedere perché questa è una chicca guardate che chiccheria questa anche da portare in palestra magari in borsa vedete c'è sempre questo per farli infuso però un po' più piccolina rispetto a quella grande questa la uso in casa infatti è questa la uso quando la voglio portare fuori ed è tutta rosa è bellissima davvero bella 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 e qui la cosa figa secondo me è che ha questo vetro tipo rinforzato qua sotto dove la ottenete e appunto così evitate di scottarvi ed è molto bella quindi queste sono tutte le novità vi lascio il link qua sotto di FITTI se volete andare a vedere io vi straconsiglio questi qua perché sono buonissimi ecco cosa abbiamo preso questi sono quelli col Philadelphia oddio si vede eccolo poi abbiamo questi i miei preferiti mighiri al salmone e quelli col granchio bollitino per torta poi ci sono quelli brava aprirli così li faccio proprio vedere col granchio no che era? no non è la natura e questo con l'avocado e il salmone ecco qua naturalmente ci tolgo questi ci tolgo tipo mezzo riso guasabi non è quello che ci va mischiando sì chi vuole boh io preferisco te no sì c'è guenda che vuole mandare ma non lo farà buon appetito ho finito di mangiare volete sapere cosa ho mangiato alla fine di tutte le cose che avevamo preso cioè le mie cose che avevo preso ho mangiato semplicemente un nigiri due no sì due pezzi di penso si chiamano romaki quelli con il riso fuori o non lo so comunque quelli con il filadelfia e il salmone naturalmente e quindi alla fine ho mangiato tre pezzetti di sushi cioè che prima ne avrei mangiati tipo 20 anche di più ma va bene e il resto quelli che avevo preso il salmone e l'avocado li ho lasciati tutti tutti e li ho messi in frigo insieme all'altro col filadelfia che mi ha avanzato e l'altro nigiri quindi non so poi quando li mangerò ora siamo venuti al parchetto qua dell'euro un po' un po' fare una passeggiata con questo agnolino fifone che oggi è un po' insopportabile e mi sono truccata come potete notare bellissimo bellissima sensazione e si ferma sempre questi alberelli qua e vedete c'è ancora questa bella giornata e sono le ore 4 e 20 quindi ci facciamo questo girettino mi sono messa la tuta con le fenty di Rihanna ed è pieno di gente tra l'altro vedete che è carnevale è carnevale quindi è pieno di pambini è pieno anche se il sole se ne sta un po' andando però comunque stiamo passeggiando ecco queste sono le cose che odio se mi arriva un coriandolo in faccia giuro che fa il macello volevo darvi una piccola tipo anteprima dei vlog futuri che ci saranno nel mio canale si spera non sono convinta ancora di prenderla potente spero la prossima volta che farò l'esame che è molto presto vi avviso di di poter poi fare i vlog cioè non in questa macchina perché questa è la macchina di mia madre col cavolino col ciuffettino che me la darà mai nella sua intera vita però più o meno non avrò una macchina del genere ma più o meno e comunque era l'unico posto che avevo per mettervi un attimino lì anche perché siamo rimasti io e Wendy in macchina questa è la Wendy che aspetta il ritorno di mia madre e quindi sono venuta qua al posto davanti per fargli fondamentalmente compagnia anche se c'è un simpatico signore che praticamente sta qui vicino parcheggiato sempre mi capita sempre va bene così quindi dicevo i futuri vlog saranno io in macchina che guido cercando di non ammazzare nessuno e no a parte gli scherzi e un sacco di voi mi avete detto ma quando poi avrai la patente ci farai vlog in macchina anche se non riesco a capire come cacchio l'ho messa comunque ci farei vlog in macchina e la risposta è all'inizio sicuramente no perché davvero potrei uccidere qualcuno altrimenti in macchina quindi e potrei uccidere me stessa soprattutto quindi onde evitare tutte queste gravi situazioni che vi ho appena elencato io direi che i vlog in macchina li facciamo ma con la macchina ferma mio dio questi pedali sono sono super pedalosi altro che pedalosi qui andiamo proprio sul pedalosi tra l'altro oggi ho fatto questo trucco che ho messo questo oddio che paura oddio che paura ragazzi oh cazzo cioè mi sono cagliata in mano c'è una signora che stava facendo qua dentro siede per vedere se il cane era da solo in macchina mio dio signor mi ha messo una paura cacchiarola comunque ecco questa era la signora e Wendy sta qua ancora in attesa Wendy ma queste zampine non ti fanno male a stare così quindi more more ciao e vi dicevo questi pedali madre santa sono super ah vedete un'altra posizione per la macchietta sono super duri poi dov'è ah questo è l'accelerato oddio che strana oh mio dio provo in macchina con ila e vabbè e questa è per chi fosse interessato la macchina questo è un open mock ragazzi in realtà è molto figa perché vedete c'ha il volante in tipo in ecopelle è qui che vuole questo cane no amore non puoi venire in braccio amore oh mio dio è venuta in braccio a me oddio santo uè così non riesco a fargli vedere la macchina fa un casino stanno a fare ritorna qui c'hai tutto un posto ma che vuoi ok questo è il coso qui dicevo è tipo un ecopelle e qua tutte le varie cose i vari tasti qui il cambio che tra l'altro è strano perché c'ha la retromarcia prima della prima cioè non so se vedete quelle che guido io ce l'hanno qui comunque io penso che quando poi avrò la patente visto che la vado subito a prendere poi la macchina penso che prenderò la non so se la conoscete o magari qualcuno di voi ce l'ha e se se qualcuno di voi ce l'ha mi scrive qua sotto qua come si trova toyota igo x cool che dovrebbe essere quella nuova e mi piace tantissimo ho visto gli interni cioè non sono mai andata in concessionario ho visto i video su youtube un po' di foto cose recensioni però dovrei proprio salirci e sentire se è bella tosta perché non so voi ma non so chi di voi guida o comunque ho già provato però guidare una macchina che senti instabile cioè proprio a primo impatto così tac cioè è bruttissimo è bruttissimo quindi devo sentire se mi piace se è bella tosta se si può fare la toyota quella lì x cool è piccolina cioè una city car proprio piccola carina però è a 5 porti una cosa per me fondamentale perché odio far cioè dover scendere per far salire le persone dietro cioè è una cosa che io odio 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 quindi l'unica richiesta specifica che ho per la mia macchina sarà quella di che deve avere 5 porte poi il resto bianca nera bordeaux celeste vabbè l'importante è che non sia di un colore improponibile tipo l'arancione cioè allora dico no però tanto sicuramente la farò bianca e poi vi spiegherò con quale ma guenda ancora virgoletta associazione farò questa auto perché non la compro di certo se siamo pazzi non ho un lavoro così stabile da dire sì pago le rate della macchina cioè assolutamente no quindi sicuramente farò la macchina nuova però con una cosa che poi vi spiegherò più avanti quando la farò primo prendere la patente e poi ci ripensiamo allora ditemi se non è una scena perfetta nuova stagione delle Winx quinta stagione praticamente ogni episodio dura 20 minuti quindi me li mangio molto facilmente e guardate che figata cioè hanno tipo in questa stagione hanno migliorato la qualità quindi è tutto più figo c'è il cane che si sta strusciando che fai Wendy oddio mio è un cane pazzo ma è un cane pazzo ma è pazzo signor Z è pazzo signor Z che chifo questa linguetta è un cane pazzoide e per cena appunto mi sono presa quello che è avanzato del sushi sicuramente non riuscirò a mangiarlo tutto ma va bene lì c'è la vaschettina le bacchettine il coltello perché li devo tagliare non riesco a mangiarle tutti interi purtroppo so che è una cosa bruttissima da fare col sushi ma va bene però non inizierò a mangiarlo adesso aspetto un attimo così nel mentre visto che l'ho tolto dal frigo da poco si decongela un pochino e quindi mi inizio a vedere questo allora piccolo cambio look non so se avete notato sono le dieci meno un quarto più o meno qui intanto mi arrivano come sempre i vostri messaggini e volevo farvela vedere perché allora in realtà la Urban Decay mi ha inviato queste tre che sono le tre di molte penso tinte che sono uscite che sono queste qua le nuove oddio no non ce la faccio ogni volta devo fare qualche casino allora ve ne faccio vedere una sola così mettiamo le cose in chiaro questa è la tinta si chiama Liquid Vise credo siano già uscite da Sephora ma non ne sono molto sicura comunque ho messo questa eccola qua che sembra nera per quanto è scura ma in realtà è un viola molto molto scuro e si chiama Black Male questo è il colore qui all'interno si vanno a scalfire però la cosa che mi aveva lasciato perplessa più che altro era il fatto che si appiccicavano e invece mi sono resa conto che lasciandole asciugare un pochino di più tipo 5 minuti al posto di 2 forse pure un po' di più comunque mi sono resa conto che non appiccicano non appiccicano più e rimangono anche no transfer quindi mi sono fatto tutto questo discorso da sola perché voi non avete visto il primo naturalmente però li ho molto 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 rivalutate e i colori sono bellissimi non ho mangiato naturalmente con la tinta su e quindi volevo farvi sapere questa cosa delle tinte anche perché sono bellissime ripeto sono proprio fighe e il packaging anche mi piace molto adesso non mi va di aprirvene una per farvela vedere che picrizia come vedete mi sono totalmente struccata messa in pigiama e sto per andare a dormire quindi volevo darvi la buonanotte e finire questo vlog sperando che vi sia piaciuto vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima ciao